Tre anni di lavoro, 13 volumi contenenti 260.000 dati e una storia che abbraccia un'epoca che va dal 3 settembre 1667 al 31 dicembre 1914. Si tratta di atti di battesimo che raccontano lo sviluppo di Castellammare tramite l'archivio storico dell'unica parrocchia esistente all'epoca, la Madonna dei Sette Dolori, a sostenere tutti i costi del lungo lavoro proprio la parrocchia di padre Sergio. È una fonte importante che spesso viene trascurata, che rischia appunto di non trovare un punto di riferimento in cui raccogliere tutto questo materiale. E quindi grande interesse a questa documentazione soprattutto per la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che rappresentava l'unica parrocchia esistente nel territorio di Castellammare fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Questa ricerca è nata da un progetto che è in sinergia con la parrocchia della Madonna dei Sette Dolori che ha informatizzato il materiale e che poi ha prodotto questo libro che andremo a presentare il 5 di maggio e che vuole essere il risultato di questa ricerca ma soprattutto lo stimolo a quanti vogliono utilizzare questo materiale per ulteriori spunti di riflessione. Una ricostruzione storica di valore locale non solo, un lavoro portato avanti dall'Università di Chieti che spiega lo sviluppo demografico e culturale avvenuto fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. C'è dietro uno studio sia di ricerca archivistico ma anche di cultura perché da questa iniziativa si riesce a risalire ai primi anni della nostra città. È una ricerca di identità che va ad affrontare la storia di Pescara, quindi dalla nascita di Pescara in avanti per far capire anche l'importanza dei centri di aggregazione come le parrocchie nello studio della storia della nostra città.